buongiorno a tutti buongiorno sono barbara sorgesa da forme spia vi do al benvenuto in occasione del ciclo formativo la didattica siamo mai oramai giunti al secondo il contro del nostro terzo modulo dati aperti la scorsa volta abbiamo fatto e portato avanti una panoramica su tutte quelle che sono le licenze i formati le forme dei dati siamo ancora qui in compagnia del nostro esperto andrea borruso oggi andremo un po più nel dettaglio un po più nel concreto forse più operativo andremo a parlare della preparazione di data set e delle risorse andrea buongiorno prima di lasciarti la parola semplicemente un paio di comunicazioni di servizio per i nostri partecipanti prevediamo una brevissima pausa verso la metà dell'incontro questo per vostra opportuna organizzazione e continuiamo ad utilizzare lo strumento della chat per tutti i nostri confronti con il nostro esperto e le nostre domande grazie mille a tutti andrea a te la parola buongiorno e allora passiamo al nostro secondo incontro in in premessa chiaramente vi voglio sottolineare ancora una volta come in questi quattro incontri stiamo facendo un volo d'uccello cercando di toccare alcuni punti importanti e e quindi poi l'invito che vi faccio sempre è quello di andare a esplorare approfondire partendo poi dai link che vado lasciando sia nelle slide sia che vi vado raccontando l'altro elemento didattico che mi costringe a impostare in qualche modo questo racconto in un certo modo è che voi siete una classe ricchissima un'aula ricchissima e con tantissime differenze di di formazione di ruolo e quindi è un tipo di didattica che deve cercare di riuscire a parlare a tutti che è la cosa quasi impossibile difficile quindi mi scuso per alcuni elementi che delle volte sono scontati per altri ma magari importanti per alcuni dunque oggi ehm affronteremo un tema chiave e è un tema eh che come tutte le cose che diremo in questi incontri ehm è multidisciplinare dal titolo quello di preparare dei dataset preparare le risorse si potrebbe pensare che questo sia un incontro come dire tecnico eh in realtà vedrete che io parlerò moltissimo anche di elementi organizzativi eh nella mia esperienza da da consulente eh un elemento che delle volte è stato più frenante eh rispetto alla buon riuscita di un programma open data ehm è stato più di tipo di tipo organizzativo perché tutto sommato le gli aspetti tecnici eh sono ormai fissati ehm nella prossima eh presentazione vi farò una carrellata anche di di alcuni strumenti molti di questi strumenti e molte di queste modalità di lavoro eh strumentali sono eh come dire fissate ormai nel tempo mentre la parte organizzativa in qualche modo a volte o è totalmente da da costruire o è eh da fissare un po' meglio con dei paletti che rendano la pubblicazione dei dati aperti come dire un processo quasi eh automatico rispetto a delle scelte fatte eh a monte. Allora preparazione dataset e risorse quindi eh cosa faccio prima di andare online con dei eh dati aperti? Allora eh scusate un secondo che ho sbagliato a fare click. Vabbè questi qua sono i miei contatti, la mia posta elettronica e il mio indirizzo Twitter ma non non è così eh così importante. Allora glossario ehm per chi fa questo mestiere dataset e risorse sono due parole chiave banali e scontate. Eh nella mia esperienza di dialogo con la pubblica amministrazione però capitava che in dipendenza del ruolo eh del della persona che incontravo eh sia dataset che risorse fossero un po' due parole come dire nuove. Ehm dataset è quello che avete sentito dire più spesso. Alle volte non è usato in maniera ehm appropriata ma diciamo in generale il dataset è un contenitore, un portafogli, un raccoglitore ehm non non è in qualche modo il dato eh stesso. Poi quando quando ne parliamo molto spesso eh generalizziamo utilizzando la parola dataset per dire un po' tutto per dire sia il contenuto che il contenitore ehm ma per definizione il dataset in qualche modo è un un titolo quindi immaginate ehm inquinamento atmosferico eh anno duemilaventidue ehm una descrizione eh questo dataset raccoglie ehm tutti i dati raccolti nelle stazioni di monitoraggio dell'arpa eh per questi inquinanti eh questa è la licenza ehm e poi i dati, gli oggetti che poi l'utente, il ricercatore, lo studente, l'analista utilizzerà ehm che si possono rendere eh disponibili in varie modalità i dati diciamo sono chiamati risorse o distribuzioni e l'elemento è la tabellina ehm vera e propria che eh contiene ehm che contiene i dati. La risorsa può essere un file eh da scaricare l'abbiamo visto l'altra volta nella sezione che abbiamo chiamato la forma dei dati quindi diciamo un un download oppure può essere un ehm un servizio, un servizio nelle sue tante forme, vedremo qualche esempio più ehm più diretto dei servizi nell'ultimo incontro che ehm che faremo ehm glossari sul mondo pendata ne trovate diversi ehm la lingua inglese è ehm diciamo il eh in qualche modo un requisito nel senso che le le guide un po' più ricche e e più aggiornate sono in lingua inglese ma eh l'ho citato non non per caso le linee guido pendata sia quelle eh tra virgolette ormai eh diciamo vecchie eh sia le nuove che sono state da poco rese consultabili da tutti e in consultazione ci torneremo eh tra un po' hanno una sezione dedicata ai nomi degli oggetti per ehm un consiglio che vi do legato al a quello che sarà poi la pubblicazione di dati in un portale open data eh abbiate cura di di creare sempre una sezione senza reinventare la ruota una sezione eh di benvenuto a chi di questo mondo sa poco perché un errore che facciamo noi e quando dico noi parlo un po' anche di chi per mestiere si occupa di dati aperti è quello di parlarci un po' tra di noi e diamo per scontato che è come dire come se tutti ehm conoscessimo certi temi eh un consiglio che poi paleserò in maniera evidente almeno in un paio di slide nell'ultimo incontro è quello di e lo trovate in molti portali open data faccio l'esempio del portale nazionale eh in cui c'è una sezione credo che si chiami proprio come fare open data o qualcosa di simile in cui ehm strutturato per indice per sezioni trovate una breve introduzione e poi i link a le pietre miliari tra virgolette del di questo tema eh soprattutto nel contesto nel contesto italiano non dovete reinventare la ruota eh salvo casi rari non mettetevi voi a creare un nuovo glossario perché tendenzialmente queste cose esistono già chiaramente se fate un qualcosa di nuovo di rivoluzionario di interessante aggiungete eventuali glossari dedicati allora ehm per arrivare a raccogliere dataset e ehm risorse per poi finalmente riuscire ad andare online con con un portale dedicato eh uno dei punti chiave è proprio quello eh organizzativo questa è una bellissima immagine di delle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio ehm informativo del settore del settore pubblico ed è un po' una strada che che oggi proveremo a a ripercorrere insieme non in tutti in tutti i punti ma soprattutto come dire la eh la parte su sulla sinistra ehm la nella sua banalità il primo punto è quello proprio di censire ehm le banche dati ehm presenti nel eh nel proprio patrimonio informativo ehm un altro aspetto fondamentale quindi fatto un elenco ora dettaglieremo un po' eh fatto un elenco mi devo porre ovviamente delle domande di natura giuridica perché posso fare un elenco un po' alla cieca e quindi posso anche raccogliere dati che mh scoprirò presto che non posso o che non ha senso pubblicare come dati aperti quindi magari eh raccolgo dei dati legati alle attività delle persone eh con dei dettagli che possono ehm violare la normativa sulla privacy e chiaramente con un'analisi in rapida ehm valuterò con il team eh di non pubblicare quei dati ma il consiglio che vi do è in fase di censimento andare anche un po' abbastanza alla cieca cioè comunque eh cercare di capire eh qual è il patrimonio informativo perché nel settore dei dati aperti ehm spesso si va si va avanti un po' per eh idee per scoperte quindi un dataset che magari non sembra di grande interesse o di grande relazione col mondo e ho dei dati aperti eh a una seconda lettura a un incontro fatto a livello di team con eh con le altre persone con con cui sto lavorando magari emerge che una porzione di quei dataset possono essere di grande interesse generale. L'analisi giuridica è ovviamente eh uno eh degli elementi principali si fa quasi da subito in modo tale da non perdere tempo eh con errori perché sarebbe terribile eh raccogliere dei dati fare la pulizia la bonifica creare eh il sistema che le va a pubblicare perché magari il sistema non c'era lo creo apposta eh coinvolgo dei tecnici e immagino di coinvolgere anche magari la comunità e poi alla fine mi rendo conto che c'è un problema di tipo normativo che non posso scavalcare e ho perso tempo quindi in qualche modo eh è consigliato eh di farlo un attimo prima insomma quasi subito come tipo di di analisi. Chiaramente la qualità eh è un per importanza secondo me poi il secondo quindi fatta l'analisi giuridica eh l'analisi di qualità è in importantissima dediceremo il prossimo incontro all'analisi eh della qualità ancora una volta il prossimo incontro sarà un po' più tecnico eh dopo domani eh ma non pensate che la qualità sia soltanto per uno che scrive codice c'è molto di più un tema molto eh molto più largo eh fatta questa analisi eh l'analisi produrrà ehm degli esiti che ehm verranno riportati eh al gruppo interno esterno che si occupa della bonifica di questi dati quindi eh li correggerà li ristrutturerà li arricchirà che è un elemento importante della della qualità quindi ad esempio eh il mio ufficio raccoglie eh dati eh sul territorio ehm sono dei dati con taglio comunale eh l'arricchimento per farvi soltanto un esempio se io eh scrivevo eh il nome del comune eh per cui raccolgo un fenomeno al nome del comune è bene sempre associare un codice eh in modo tale che questi dati possono essere incrociati con gli altri perché i codici i vocabolari controllati eh faremo delle lezioni su questi concetti consentono di non avere dubbi eh sul sui nomi per esempio dei luoghi perché eh il codice è univoco mentre il nome del luogo pensate sia ai nomi accentati sia ai nomi di comuni un po' eh ricchi con apostrofi con spazi eh che ne so le faccio sempre l'esempio Reggio Emilia il cui nome corretto credo che sia Reggio nell'Emilia eh e questo è risolto banalmente perché se io nella mia banca dati ho fatto un arricchimento ehm eh che esprime un codice diciamo sul codice si possono fare errori ma uno dei motivi per cui esistono è proprio eh questo. I profili di accesso quindi chi può accedere ai dati normalmente eh su sui dati aperti essenzialmente c'è un solo tipo di profilo eh ma eh sono pensabili eh altre modalità ma diciamo nel mondo dei dati aperti ehm c'è il profilo pubblico diciamo il profilo eh interno eh la scelta delle eh licenze ne ne abbiamo accennato non ci ritorno oggi ehm analizzare tutto il processo che ehm porterà alla pubblicazione quindi eh cosa faccio eh costruisco un nuovo sistema che prende dalla mia banca data ambientale creata vent'anni fa esistono questi casi vi farò un esempio eh che ehm a partire dalla banca dati che già esiste metti insieme un un processo che da domani esporta anche il csv nella banca dati che ho messo eh in piedi ehm con che periodicità voglio ehm aggiornare ehm questi dati quali formati eh voglio scegliere quali check di pubblicazione eh voglio fare eh a questo punto ho messo ho ragionato sul sul processo vado eh imposto per la produzione e eh definisco i metadati per descrivere ehm il i miei dati e andiamo un po' a a dettagliare mi fermo in in questa eh a questo punto diciamo di questo di questo percorso e questo è un virgolettato che viene proprio dalle linee delle linee guida chiaramente in pubblica amministrazioni più piccole definire un'organizzazione ricca può essere abbastanza complesso quindi eh chiaramente eh i punti che vi dirò oggi sono l'ideale eh da adattare eventualmente a ehm ai casi ehm più eh piccoli come pubblica amministrazioni che hanno un personale più più ridotto. È necessario definire una data governance interna quindi chi fa cosa e che responsabilità c'ha rispetto ehm rispetto ai dati e ehm deve diciamo lavorare sul queste responsabilità devono essere definite sia eh in verticale cioè rispetto a a cose già in corso e lo ripeterò spesso in questa in queste due ore cercate di riusare di portare a valore ciò che è già fate. La pubblica amministrazione eh sui dati fa già tantissimo magari non vanno online magari non sono nel portale magari non sono eh con i metadati corretti non c'hanno una licenza ok questo quello se manca è tutto da fare ma molti di voi eh fanno già un bellissimo e grandissimo lavoro da tanti punti di vista eh formale sostanziale tecnico qualitativo eh in termini informativi magari rimane dentro le vostre le vostre macchine. Altra cosa che voi già fate voi avete già degli obblighi di pubblicità avete già degli obblighi non solo di raccogliere ma di comunicare dei dati. Questi processi alle volte non producono open data ma producono la comunicazione obbligatoria verso l'ente eh che ve lo chiede. Sfruttate questo lavoro che già avete dentro che in qualche modo già pagate su cui avete già del personale perché delle volte il passo per trasformare quell'obbligo che vi che vi richiede sia di raccogliere sia di comunicare è un passo piccolo perché tendenzialmente dovreste avere già un database già delle procedure di controllo di qualità eh ovvero se io raccoggo dati ambientali eh nel nel piombo in atmosfera nella colonna non ci possono essere stringhe ma ci possono essere soltanto valori decimali i valori decimali possono essere soltanto di un certo tipo avete sicuramente definito continuo su questo esempio ehm quali sono le unità di misura quindi in realtà quello il verticale l'analisi di ciò che avviene internamente eh rispetto a chi verrà affidato il ruolo di eh organizzativo è un ruolo di team eh è molto importante e poi in orizzontale in orizzontale quando io faccio il consulente con le pubbliche amministrazioni eh si fanno tantissime scoperte perché ehm chiaccheri all'inizio con l'ufficio A e poi con l'ufficio B fai un'analisi fai un assessment per capire eh che dati hanno eh che interessi hanno che obiettivi di comunicazione hanno rispetto eh al mondo esterno e cosa avviene che ho parlato con l'ufficio A però dopo l'ufficio B e mi rendo conto che l'ufficio A non sa che dati eh gestisce potrebbe pubblicare l'ufficio B e viceversa ehm ed è stato straordinario in un in un comune grande italiano ehm verificare che i dati e la polizia municipale erano eh molto utili a un a un settore che faceva delle analisi sociali eh sul sul territorio e avere messo in open data ehm dei dati della polizia municipale è diventata fonte per un ufficio eh della stessa pubblica amministrazione quindi anche il ruolo di lavorare in orizzontale nella grande ricchezza eh che esiste anche nei piccoli nei piccoli comuni è una chiave di come dire di successo al punto di vista eh organizzativo eh non cerchiamo di eh ne approfitto un attimo c'è una una domanda che che mi tocca e la che mi dice ma possiamo dire che l'analisi tecnico giuridica costituisce un un prerequisito abilitante sicuramente sì nel senso che l'analisi tecnico giuridica è ehm è fondamentale eh forse quella che avviene un attimo prima eh può essere come dire un'analisi di natura di obiettivo ehm come dire quasi culturale informativo eh cosa per me pubblica amministrazione perché io penso che sia importante eh condividere il patrimonio che raccolgo ragionare su questo che può sembrare una cosa un po' eh da bevete coca cola cioè una cosa da slogan in realtà è molto importante cioè riuscire a eh ad avere il piacere eh di di fare un servizio utile per il mondo esterno e ripeto parliamo di aziende ricercatori studenti cioè eh i dati eh fanno muovere molti settori fanno muovere anche 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 business quindi io farei come primo punto un'analisi molto larga lo faccio perché ho questo eh obiettivo lo faccio perché ho questo ruolo lo faccio perché posso dare un contributo a valorizzare il patrimonio informativo lo ripeto spesso perché a me fare open data mi piace meno come parola mentre eh il titolo valorizzazione del patrimonio informativo del settore pubblico secondo me è la chiave di di chi fa questo mestiere fare open data non è un mero adempimento tecnologico l'ho detto se non sbaglio proprio all'inizio nel senso che la tecnologia la dobbiamo dare per scontata dobbiamo darla come eh come qualcosa che che dobbiamo realizzare in certe modalità perché ce lo dicono eh le norme ma tutto sommato è un po' la parte più più facile eh mentre l'ottimizzazione dei processi esistenti perché ripeto siete eh per noi eh del mondo esterno siete un riferimento il paese si eh si diciamo cammina anche grazie a voi quindi l'ottimizzazione dei processi interni sapere che l'ufficio ha eh ha certi dati pubblicati in un certo modo eh sapere che quando eh quel sensore che ho messo eh sul territorio raccoglie certi dati e li aggiorna in maniera automatica li archivia eh con controllo di di qualità quindi è è tutto ben organizzato dal punto di vista informativo dal punto di vista tecnologico dal punto di vista eh formale dal punto di vista della sicurezza eh questo vi eh consente di produrre eh come dirò buoni open data quasi in maniera naturale eh l'acqua potabile esce dal rubinetto a valle di eh un'organizzazione del del sistema di cui l'acqua potabile è uno degli esiti possibili dobbiamo secondo me eh in questa nuova fase del del mondo degli open data e pensare gli open data come una conseguenza quasi automatica del del lavoro organizzativo che facciamo eh internamente poi dobbiamo farlo anche per alcune norme eh però potrebbe essere per la gran parte anche un esito eh naturale e mh la scelta dal punto di vista tecnologico deve prevedere soluzioni interoperabili interoperabilità che è una di quelle parole chiave che sentite dire da anni eh che sembra un po' un uno slogan probabilmente non siamo mai riuscita a vendervela eh per bene ehm anche questa sembra bevete coca cola in realtà ehm vi faccio l'esempio di di pago PA e io non dimentico più di pagare il bollo auto e bollo moto grazie al fatto che tutte queste informazioni a monte sono raccolte in modo che si possono parlare automaticamente tra loro l'interoperabilità in qualche modo è quello che consente alle macchine di dialogare e comprendere eh il contenuto informativo delle informazioni che appunto vengono raccolte e eh pago PA eh ha ha un grande successo funziona molto bene perché ha a monte un bel lavoro di interoperabilità tra fonti dati banche dati eh processi eh diverse e eh questo esempio eh che per un cittadino è non dimenticare di pagare un un una tassa che per lo Stato è un'ulteriore tassa in più pagata perché comunque con le con le tasse faccio cose belle eh è un è un bel esempio e e poi fare open data è una grandissima eh opportunità perché eh facendo quel lavoro di censimento studio eh descrizione delle banche dati che che c'ho internamente riduco i costi ai tempi di accesso al capitale informativo che la pubblica amministrazione raccoglie e riuscire ad arrivare al al filetto csv al filetto json al file più ricco ehm pubblicato secondo il paradigma paradigma dei link dopo andata e se arrivo fino a là quindi se arrivo da una macchina complessa a fare una tabellina csv eh ho costruito un una macchina che per forza di cose ha dovuto ridurre la complessità ha dovuto eh descriverla eh definirla quindi è un processo interno che eh eh fatto questo questo sforzo produce la la riduzione della complessità dei vostri eh processi eh interni e eh ancora una volta io mi metto diciamo dal dall'altra parte mi metto nel nel mondo esterno eh avete la possibilità di eh ottimizzare anche la comunicazione informativa eh verso verso l'esterno da poco ci sono state le elezioni per il referendum e le elezioni comunali e al alcuni giornalisti alcuni professionisti analisti hanno come sempre cercato di fare delle analisi su eh su su questi dati eh soprattutto eh per ehm per i per i per i comuni in alcuni comuni italiani ci sono ehm state le barriere informative non è stato facilissimo eh recuperare i nomi eh di tutte le liste di circoscrizioni per le elezioni comunali si trovavano eh nomi di liste non corrispondenti eh nonostante il partito fosse lo stesso una volta c'aveva due caratteri in più una volta due caratteri in meno quindi diciamo avere ben lavorato dal punto di vista dei processi della della qualità a monte produce anche ancora una volta automaticamente l'opportunità di andare a raccontare verso il mondo esterno dati senza sforzo ovvero non riceverete l'email di Tizio Caio e Sempronio che vi chiedono una cosa perché la gran parte dei dati sono ben descritti parlano da soli quindi ancora una volta uno sforzo fatto bene a monte vi produce moltissima economia a me è capitato a proposito di organizzazione a proposito di uffici che non si parlano una cosa incredibile e facciamo un censimento di di dati che non erano pubblicati come dati aperti erano dati elettorali e e dialogando col titolare dei dati con l'ufficio elettorale di quella pubblica amministrazione riusciamo a mettere in piedi una procedura automatica di pubblicazione e quindi dall'anno fate finta 2020 quella pubblica amministrazione pubblica in maniera automatica eh ogni volta che ci sono elezioni in quel territorio i dati elettorali e il titolare del dato che all'inizio tra virgolette aveva fatto un po' di ostruzione ma perché la gente ama il lavoro che fa e e succede delle volte che uno ha un rapporto quasi personale con i propri dati e si sentiva tra virgolette superato a destra col fatto che qualcun altro li ripubblicasse però dopo poche chiacchiere questa persona in realtà era una persona splendida eh i dati vanno vanno online mi ha telefonato diverse volte successivamente dicendomi sa signor Borruso una cosa bellissima è che adesso che ho i cini dati aperti io non devo più rispondere a decine di mail che mi arrivano email complicate il tizio che mi chiedeva mi estragga soltanto quei dati così quei dati colì soltanto quell'anno adesso che avete messo in piedi una macchina il mio ufficio si può occupare d'altro l'accesso grezzo ai dati eh è nel portale open data noi ufficio elettorale ci occupiamo di altre questioni organizzative di altre questioni legate al dominio verticale eh elettorale e questo è una un'altra delle cose che è possibile fare rispetto a un'implementazione eh corretta di eh pubblicazione di eh dati aperti e questo è un elemento alle volte disturbante nel senso che ehm il tema open data è come se fosse messo ehm diciamo in un altro spazio del ehm legato alla raccolta ehm di dati quindi l'amministrazione raccoglie dati sulle persone sull'ambiente sull'economia e poi fa anche open data e ehm sul tema open data magari poi viene fatto un progetto successivo con altri fondi altro staff altre aziende magari che se ne occupano eh l'ideale soprattutto per chi parte da zero per chi sta iniziando a costruire qualcosa l'ideale è fare in modo che dal punto di vista progettuale l'esito della pubblicazione di dati aperti quindi della raccolta di data sette risorse sia pensato a monte come un esito naturale sia in qualche modo pienamente integrato quindi se io domani sto facendo un progetto per mappare i dati sull'amianto nel territorio che sono per esempio un altro che sono obbligo di pubblicità eh il catasto è un obbligo normativo ehm l'ideale è che tutte le volte che si parla di dati sia invitato al al tavolo ehm che deve lavorare eh qualcuno eh che si occuperà di eh di dati di dati aperti in modo tale che eh in fase di progettazione si saprà già che eh dovrà essere prevista un dialogo con un portale open data portale open data che magari è già stato messo in piedi e che ha dei requisiti tecnici molto facili ma ha dei requisiti che devono essere comunicati in modo tale che il sistema di censimento dell'amianto che va in progettazione e sviluppo domani eh terrà conto questa progettazione del fatto che un pezzetto dei tantissimi dati raccolti che non possono diventare tutti open data ma alcuni sì e saranno in maniera snella leggera dati aperti eh perché saranno eh mappati dal punto di vista tecnologico dal punto di vista informativo dal punto di vista della licenza dal punto di vista dello studio legale eh in modo corretto per cui questo diventa un esito in qualche modo eh naturale lo so voi mi direte se la fai facile tutte parole io non la faccio facile perché in qualche modo a volte faccio parte di questi staff che lavorano dentro le pubbliche amministrazioni e chiaramente è un impegno è un impegno che richiede budget che richiede che richiede personale che richiede cultura quindi un elemento eh se vogliamo fare una scaletta di cosa fare per ehm raccogliere per preparare data sette risorse sicuramente la formazione un po' quello che stiamo facendo oggi che chiaramente un pezzettino la formazione è un elemento chiave ma nella governanza interna è fondamentale eh il eh poter avere interna nel nel team professionalità sia strategiche che specifiche e alla domanda che mi è stata fatta rispondo tra tra un attimo magari alla ripresa della della pausa e ehm once only eh nel nella pubblica amministrazione cioè una volta soltanto è una eh uno slogan chiave che entra in in tantissime cose per noi cittadini è ehm è la cosa classica se io comunico i miei dati e la pubblica amministrazione e comunico sempre che ne so nome cognome eh quando sono nato è inutile che me lo fai me lo chiedi cento volte da tutti i siti da qui entro io sono Andrea Borruso tu lo sai se io mi identifico eh ad esempio con Speed tu sai chi sono e questa raccolta dati viene fatta una sola volta che poi viene messa in interoperabilità con eh con altri sistemi della pubblica amministrazione ma anche nel nel raccolta nella preparazione dei dataset e delle risorse attenzione facciamolo una una sola volta cosa voglio dire eh esistono banche dati centrali nazionali che raccolgono tantissimi dati penso ai beni culturali a un portale bellissimo allora vale la pena che io comune eh di Palermo eh ripubblichi anzi non ripubblichi che io pubblichi eh dei dataset sui beni culturali voi direte ma certo Palermo è una città piena di cultura piena di storia ci vorrebbe proprio un eh un dataset sui beni culturali sono d'accordo eh valutiamo però se stiamo aggiungendo qualcosa perché se eh i beni culturali su Palermo già pubblicano dati eh molto ricchi aggiornati eh coerenti con quello che è in corso adesso eh nel censimento che facciamo nelle banche dati nella scelta delle banche dati che cerchiamo di pubblicare evitiamo di fare due volte un lavoro e roba a livello centrale su tantissimi aspetti ce n'è tanta quindi ancora una volta scegliete il patrimonio informativo da pubblicare anche a valle di un'analisi di di ciò che esiste a livello più alto a livello più alto se sono un comune può essere a livello regionale ovviamente a livello nazionale o addirittura a livello europeo eh che è un altro luogo in cui ehm alle volte eh leggiamo dati ehm interessanti globali e quindi meglio non meglio non duplicarli il gruppo di lavoro pendata si può chiamare come volete diciamo eh gli ho dato questo titolo un un po' un po' generico è il gruppo che internamente la pubblica amministrazione promuove l'uso e la diffusione degli open data eh questo attenzione eh cerchiamo di raccontarla così cioè non non fermiamoci a dire al collega senti dobbiamo pubblicare questi dati perché ce lo chiede l'Europa sto facendo un attimo un una battuta eh l'ideale è che nel team ci sia qualcuno che capisca magari non su tutti i temi ma che capisca quale possa essere veramente il valore eh sia per la pubblica amministrazione stessa sia per il mondo esterno il valore di di andare in in pubblicazione in formato eh aperto in questo team ci vuole qualcuno che segue questo mondo seguirlo è una cosa ricca io sono soprattutto un per esempio un tecnico e e non è vero che eh non cioè non siamo super uomini nel senso che eh su alcuni temi sono più forte su altri temi sono meno eh meno preparato e e allora nel team ci vuole comunque ehm una ricchezza di di due tre domini almeno di eh di conoscenza il tema del governo aperto che viene prima dei dati aperti ehm è un tema importante quindi eh qualcuno che eh segue la novità ad esempio vi invito l'ho detto tante volte a leggervi eh le la proposta di nuova linea guida su open data fra l'altro c'è una consultazione in corso quindi è uno è un'occasione molto bella che viene data a tutti viene data a noi cittadini alla pubblica amministrazione per raggiungere delle note mh troverete eh raggiungere delle note che non devono essere necessariamente delle critiche anzi io penso che per lo più rispetto a questo documento saranno delle proposte delle 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 integrazioni il il team open data ehm deve curare la razionalizzazione ehm del lavoro che fa rispetto ad altri processi di apertura eh del dato e deve pianificare e coordinare l'evoluzione continua nell'apertura dei dati eh nonché ovviamente dell'infrastruttura eh tecnologica che ha eh supporto di tutto eh questo e quest'ultimo punto eh di nuovo riporto un'esperienza personale che ormai faccio quasi da una decina d'anni e il confronto con il livello politico secondo me voi lo sapete molto meglio di me e è fondamentale ma non perché come dire c'è chi comanda c'è non è questo il punto proprio perché ehm è un un ecosistema ricco in cui ci sono dei dei ruoli e quindi il team open data deve avere l'opportunità quindi anche questo deve essere progettato ehm nel negli obiettivi eh legati ai dati aperti deve essere progettato le modalità di eh confrontarsi col livello più politico con il livello più decisionale vi faccio un esempio molto bello ehm noi nel eh marzo del duemilaventi diciamo poco dopo l'inizio pandemia come cittadini e cittadine come gruppo di persone abbiamo fatto una campagna social che chiedeva al dipartimento di protezione civile di pubblicare dati aperti sul sulla pandemia probabilmente oggi vi sembra tutto scontato perché abbiamo visto tantissimi numeri ma fino ai primi di marzo i dati sulla pandemia uscivano con dei pdf giornalieri la tabellina monopagina con i colori il verde il rosso e noi facciamo una campagna facciamo una campagna che dura pochi giorni che sui social abbiamo utilizzato Twitter eh fa tantissimo rumore eh un passaparola spontaneo eh in cui partecipano eh tecnici noiosi come me eh partecipano esperti di di norme eh giornalisti aziende associazioni piccole medie grandi giornali italiani eh in tre giorni dopo che il lancio di questa eh piccola ehm azione i dati vanno vanno online vanno online chiaramente è impensabile che la protezione civile in tre giorni facesse quel lavoro ed era chiaro ed evidente quindi che la protezione civile stava già lavorando sulla pubblicazione di questi dati ehm è emerso a proposito di politica il confronto con la politica che un elemento molto utile al al fare andare eh online presto e bene quei dati è stato ricevere un po' questa richiesta richiesta che per la gran parte fra l'altro è stata fatta in maniera molto civile molto molto diretta molto franca senza senza gridare allo scandalo senza ma semplicemente dire questa cosa questi numeri riguardano la nostra vita le scelte che vengono fatte dal governo su sul nostro quotidiano per favore questi dati devono essere ben leggibili ben descritti ehm sappiamo che il il dialogo con la politica il confronto con la politica a valle di una richiesta eh che è venuta come dire da fuori è stata essenziale perché a quel punto le il decisore politico eh ha sentito in qualche modo l'opportunità che derivava dal dialogo col tecnico internamente con la richiesta che veniva da fuori e si è chiuso il cerchio tenendo conto di tre punti chiave rispetto a ehm tutto questo questo questa è la slide eh in cui eh appunto era il 7 marzo se non sbaglio eh lanciamo il la richiesta il quattro marzo e in tre giorni la protezione civile fa un ottimo eh lavoro un po' di formalità il mitico responsabile protezione al digitale o la mitica responsabile al digitale sembrano quelle figure tipo i supereroi no delle volte quando ne parli eh con un parente o un amico che sa poco di queste cose si immagina che sia eh appunto un essere ehm con poteri incredibili in realtà appunto è una funzione come tanto una funzione molto eh molto importante e ehm nelle linee guida eh open data eh si raccomanda e di fatti in moltissime pubblica amministrazione è così eh di demandare a responsabile per l'entrazione al digitale il compito di costruire il gruppo di lavoro dedicato ehm al processo di apertura eh dei dei dati e chiaramente deve essere un ehm coinvolto un po' in in tutte le parti mi direte se è responsabile quante cose deve fare qui non lo so diciamo bisogna rivolgersi un po' al al legislatore chiaramente però eh visto il il visto il suo ruolo è ovvio che almeno ehm potrebbe anche non fare parte del team ma è la figura che deve immaginare come fare funzionare il team da chi è che è composto eh e in che modalità deve deve debba funzionare eh scusate un secondo fra l'altro eh la circolare dell'ottobre del duemila diciotto eh raccomanda di prevedere nell'atto di conferimento dell'incarico di nomina ehm diciamo oltre i compiti espressamente previsti dal dal RTD dà proprio all'RTD eh il potere di costituire gruppi tematici per singole eh attività e o adempimenti quindi diciamo il formalismo eh le forme per me sono sostanza le forme sono abilitanti il formalismo abilita eh questo ruolo e dà a questo ruolo la possibilità di eh definire eh il ad esempio il il team di progetto per l'adempimento di pubblicazione di eh dati eh aperti ehm chiaramente ehm è bene prevedere che ci sia un responsabile quindi in qualche modo comunque nel team una eh una figura e ehm vedono nelle chat una domanda che dice ehm da quante figure è fatto generalmente questo gruppo una stima una stima media voi tenete conto che eh diciamo ci sono dei ruoli dei macro ruoli veramente importanti quindi in qualche modo eh l'ideale è avere almeno un gruppo di tre persone perché ehm tra eh aspetti normativi e formali aspetti tecnici ehm aspetti organizzativi se ne vanno almeno diciamo eh tre eh tre figure di da 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 staffare eh diciamo per me sono un po' le 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 minime ovviamente in un mondo in un mondo ideale e mhmm e poi ehm chiaramente ehm come vi dicevo fate economia su dati che ci sono su dati che già raccogliete e che già raccogliete bene e quindi partite da quei da quei dati per andare in open data perché ripeto eh ne avete tanti che già sono ben raccolti eмns A livello di team, a livello organizzativo, partite da figure esistenti che già avete per legge dentro la pubblica amministrazione, perché molto spesso c'è il responsabile per la conservazione documentale, c'è il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, c'è il responsabile per la protezione dei dati personali, quello dei sistemi informativi che alle volte è l'RTD, alle volte no, quello per la sicurezza, non vi sto dicendo di creare un team a partire da queste figure, in qualche modo si potrebbe pure pensare, ma a volte la vedo difficile, ma garantite che il team Open Data faccia un po' da raccordo tra queste e quindi delle riunioni periodiche, della documentazione condivisa, dei documenti di processo scritti insieme, Quindi vi faccio soltanto un esempio, se siete una pubblica amministrazione regionale e volete abilitare la pubblicazione nel vostro portale Open Data, dei dati che vengono dai comuni del vostro territorio, è sicuro che il team Open Data deve parlare con il responsabile corruzione e trasparenza, il responsabile produzione dei dati personali, cito soltanto questi due, per capire come scrivere il documentino che controfirmano tutte le parti in causa, quindi il piccolo comune che pubblica il portale regionale e il portale regionale, perché questo accordo viene reso evidente con una soluzione tecnologica che è molto facile, molto spesso due server che in sicurezza si parlano, la banalizzo un attimo e io pubblico i dati del comune di Monfalcone nel portale regionale, ma a monte, visto che la pubblica amministrazione ha delle responsabilità, deve garantire la sicurezza, le norme, è bene che vengono prodotti dei documenti, questi documenti vengono controfirmati e sono scritti dalle figure chiave che già esistono ad esempio nelle vostre organizzazioni. Incontrarsi, incontrarsi come processo, quindi diventa una regola, è fondamentale, sia internamente, la primissima cosa ovviamente sono le riunioni interne, da fare in modalità definita, quindi io decido che in maniera bimestrale il team Open Data incontra i responsabili dati di ogni assessorato, faccio un esempio. Definisco delle modalità di comunicazione, è previsto che ci sia una comunicazione unilaterale, il team Open Data invia delle note informative, esiste una mailing list di lavoro, esiste una chat che lavora in parallelo a un forum, così come fa per esempio il team per la trasformazione digitale è il forum di Agid in cui ci si parla, in quel caso dentro e fuori ovviamente. E poi chiaramente nell'organizzazione e negli incontri pensare a degli incontri che siano di tipo formativo, quindi il team è un team che ha delle buone basi di conoscenza, non è prevedibile che si abbiano in tutta la pubblica amministrazione, cercate di creare degli incontri in cui uno degli aspetti sia formativi, dove per formativo secondo me non dobbiamo spiegare necessariamente al dipendente Tizio Caio cosa sono i link Open Data, ma soprattutto probabilmente, almeno in una prima fase, cercare di fargli capire qual è il valore aggiunto che si mette nel pubblicare e valorizzare il patrimonio. informativo del settore pubblico. Esternamente, ovviamente, questo è un po' più raro, però vi facevo nel primo incontro l'esempio del mio comune che è Palermo. Il comune di Palermo, nell'elino di guida Open Data che ha approvato quasi dieci anni fa, ha dedicato, copiandolo dalle linee guida nazionali, ha copiato l'impegno di incontrare, almeno se non sbaglio due volte all'anno, il mondo esterno per raccogliere contributi, ma anche critiche, per raccontare le cose belle che si stanno facendo o raccontare anche le difficoltà che ci sono in corso. Io vi posso dire che noi a Palermo abbiamo avuto degli esiti molto belli dal pubblicare nel 2015 i dati sul trasporto pubblico, ve l'ho già raccontato se non sbaglio, quindi quali autobus erano disponibili in città, quali fossero i percorsi, quali fossero le fermate. A Palermo, su Google Maps, ma su tutti i provider cartografici, non era possibile capire che autobus prendere per andare in cattedrale della stazione centrale, lo capivi in modalità folli. Quell'esito deriva anche da riunioni fatte con il mondo esterno e soprattutto dall'ascolto che la pubblica amministrazione in quel caso era una partecipata comunale, era al tavolo ed è stato bellissimo perché in quel tavolo c'erano ovviamente non soltanto il team open data, ma c'era un responsabile quasi per ognuno degli uffici e c'era, non succede sempre, e c'era anche un responsabile per ognuna delle partecipate, perché le partecipate ovviamente, non l'ho citato prima, ne approfitto adesso, ovviamente nell'orizzontalità, nel coinvolgere le pubbliche, gli uffici, lo sapete molto meglio di me, ma le partecipate sono ovviamente nella stragrande parte dei casi, sono aziende che raccolgono tantissimi dati, quasi esistono per, non dico raccogliere dati, ma insomma è uno dei loro skill. Se immaginate di lavorare con il mondo esterno, chiaramente o c'è staff o è inutile pure pensarlo cosa voglio dire? Se voi dedicate un indirizzo email per parlare con il mondo esterno, c'è un ruolo c'è qualcuno che deve leggere quell'email, deve sapere rispondere, ovvero deve poter sapere a chi rivolgersi per una domanda tecnica, e quindi chiaramente il lavoro con l'esterno deve prevedere staff, è una scelta secondo me è una scelta essenziale, chiaramente può essere più o meno grande, una riunione all'anno un al mese, queste sono tutte cose che decidete voi. Ci sono anche delle opportunità che sono più festose cioè fare un hackathon, fare un evento, e allora molto bello, noi abbiamo fatto, non mi ricordo quanti anni fa un hackathon per cercare di trasformare le informazioni utili per i migranti in città che hanno problemi con la lingua, non conoscono le nostre norme, che hanno difficoltà ad accedere ai portali istituzionali, insomma ci sono tante robe, abbiamo fatto un hackathon che aveva in fondo come obiettivo quello di aiutare la pubblica amministrazione a capire come diciamo con uno sforzo piccolo sia in termini economici sia organizzativi, poteva aiutare i migranti a vivere meglio nel territorio era il comune di Milano, quindi non era un comune da poco, e abbiamo fatto tra le altre cose una cosa banale abbiamo creato una versione leggibile di un documento informativo che era soltanto pubblicato in pdf vive il pdf, però molta di questa gente lavorava, non ha un computer, ha quando va bene il telefonino ed era un oggetto praticamente illegibile da telefonino, e abbiamo fatto invece un sito pensato proprio per l'accessibilità multilingua e quindi un hackathon banale ma interessantissimo che ha riportato alla pubblica amministrazione una soluzione e ha fatto conoscere ricercatori, aziende con personale della pubblica amministrazione anche quando decidete, secondo me si deve fare di dialogare con il mondo esterno, dovete immaginare modalità di comunicazione che siano in qualche modo definite con dei ruoli, con dei processi, con delle scadenze, con degli impegni presi creare il forum aperto e poi dopo un mese non trovare nessuna risposta e avere una raccolta di richieste senza risposta chiaramente è missione incompiuta e porterà il mondo esterno a non scrivervi più in quello spazio allora siccome sono le 10.30 ne approfitto soltanto per, prima di dirvi che facciamo pausa ai 3 minuti c'è un'altra domanda oltre all'apertura dei dati è utile spendersi per il data visualization? ovviamente sì lo vedremo un po' nell'ultimo incontro che faremo il data visualization a cosa serve soprattutto allora mentre pubblicare il CSV, il JSON, l'API le cose più o meno complicate chiaramente devi essere uno che sa lavorare con i dati grezzi la data visualization in qualche modo già è un esito, è una trasformazione avviene a valle nel senso che grazie al fatto che ci sono dei dati leggibili e interpretabili in maniera automatica o semiautomatica posso fare data visualization il pregio della data visualization è che in qualche modo allarga l'attenzione, l'interesse ma soprattutto le domande quindi la data visualization può aumentare il tema della cultura dei dati sia verso l'esterno che internamente faccio vedere ai colleghi di un altro ufficio come va un trend rispetto a una certa cosa che magari in una tabella non si vede ma l'evidenza di un fenomeno che era più difficilmente leggibile su una tabella vi può portare come grandissimo arricchimento una bella domanda, una buona proposta che viene dal mondo esterno un'azienda che deve fare app per Android e per iPhone vi fa una domanda eccezionale che capisce, tira fuori da un'evidenza che deriva dalla data visualization senza la quale quell'evidenza non sarebbe emersa ci pigliamo tre minuti da adesso Benissimo Andrea, grazie mille Quanto durano poco questi tre minuti aspetto le slide Arriva Allora c'è una domanda di Giuseppe della Camera che io non so bene interpretare quindi gli chiedo se gli va eventualmente poi di scrivermi un'email perché lui mi chiede diciamo l'interoperabilità che rappresenta il sistema nervoso del capitale informativo della PA deve essere venduta a chi governa lo sviluppo delle politiche di digitalizzazione altrimenti come si sviluppa la digitalizzazione e la transizione digitale stessa di tutta la PA non sono sicuro bene di aver capito e preferisco non annoiarvi con risposte sciocche quindi eventualmente chiedo a Giuseppe di scrivermi un'email andrea.borruso-chiocciola-ondata.it e eventualmente ve la riporto poi a fattore comune nel prossimo incontro Allora, censimento partite dai dati esistenti da quelli nativi una cosa che ho fatto in una pubblica amministrazione è stata quella di creare proprio un questionario dedicato perché purtroppo guardate che capita che in certi uffici non ci rendiamo conto non ci si rende conto del fatto che si ha qualcosa di valore dentro e quindi un questionario un po' bacchettone con dei punti chiave il nome del dataset lo descrivi la tecnologia su cui è basata l'aggiornamento di questi dati il formato in cui è raccolto diciamo anche una decina di domande molto chiave non per scoprire tutto subito con una banalità tipo il questionario fa già tantissimo perché poi da quello abbiamo costruito delle domande più di dettaglio quindi abbiamo capito da una prima analisi che di quelle 50 risposte raccolte soltanto 5 magari erano di grande interesse e su quelle 5 abbiamo pubblicato dati di grande interesse grazie a questo semplice questionario e gli approfondimenti successivi ve l'ho detto già n volte ma questo è un esempio che proprio cade a fagiolo una delle cose previste dalle norme è l'elenco e l'anagrafica delle basi dati che deriva dall'articolo 24 del decreto legge 90 del 2014 cioè le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad avere il censimento delle basi di dati fra l'altro è un censimento che prevede alcune domande simili a quelle di un questionario utile poi andare in open data nasce per tutt'altro ma è un bell'indice e ancora una volta vi riporto un fatto personale abbiamo sfruttato questi dati per pubblicare una cosa banale nel senso che ti aspetteresti che questo tipo di dataset di cui vi sto parlando sia pubblicato in open data da sempre dal censimento emergeva che c'era una banca dati di natura ambientale legata a decine di sensori meteo sparsi nel territorio però questa cosa non c'era venuta in mente a nessuno né al team open data né al responsabile open data né all'RTD abbiamo semplicemente letto l'esito dell'anagrafica della banca dati quindi abbiamo letto una tabellina e abbiamo detto accidenti ma c'è questa banca dati abbiamo chiamato il responsabile della banca dati perché poi nell'anagrafica c'era anche l'ufficio responsabile e in un mesetto era una banca dati complessa ma esistente stabile e robusta era una vecchia banca dati oracle vecchia nel senso che era su una versione database veramente datata ma molto robusta quindi abbiamo dedicato del tempo a due aspetti un aspetto tecnologico che abbiamo risolto in maniera abbastanza snella abbiamo dedicato più tempo a capire che cosa fossero i numeri raccolti in quella banca dati perché era un progetto molto vecchio la documentazione non la trovevamo particolarmente ricca ed esplicativa abbiamo contattato il progettista della banca dati e siamo usciti quindi quello è in termini di censimento è quasi un censimento già fatto e questa è la banca dati che esiste in regione siciliana da esisteva ed esiste da forse 15 anni si vede anche tra virgolette dal sito che è un sito che ha un taglio diciamo che lo fa sembrare era un sito di qualche anno fa e stupidamente non avevamo pensato che visto che c'era questo sito con le mappe a pallini i numeri le tabelle ci doveva essere pure una banca dati l'abbiamo diciamo riportato in evidenza a partire dall'esito formale di quell'anagrafica prevista per legge la cosa carina non so se lo sapete tutte e tutti nel portale nazionale dati da un po' di tempo non da sempre non mi ricordo se da un anno o più diciamo abbastanza recentemente è stata pubblicata proprio l'anagrafica di queste banche dati e quindi c'è una sezione dedicata la trovate nella sezione nella sezione dati l'indirizzo è dati.gov.it slash base dati e magari trovate la vostra pubblica amministrazione e voi stessi troverete magari un patrimonio informativo in cui tra virgolette c'è puzza di dati cioè trovate qualcosa che può essere un'opportunità più o meno facile da trasformare in una valorizzazione del patrimonio informativo quindi buttateci un occhio è quasi un censimento già fatto questa cosa di andare oltre gli obblighi ve la dico in maniera un po' noiosa ma qualcuno mi muove le slide ok ma è un'opportunità perché la faccenda dell'apertura di esiti inaspettati lo vedremo nel quarto incontro dove vi farò vedere una panoramica di esiti di pubblicazione di open data è veramente sorprendente io vi farò vedere l'esempio dell'applicazione che vi indicherà dove prendersi una birra d'estate all'ombra in una città ma siete pazzi? no perché chiaramente il turista che in questo matto mondo in cui abbiamo temperature folli in cui abbiamo una crisi ambientale fortissima se fai il turista in tantissime città del mondo si schiatta dal caldo e grazie a dati pubblicati per fare tutt'altro quindi c'erano gli edifici pubblici e l'altezza degli edifici pubblici normalmente sono utilizzati da professionisti architetti ingegneri progettisti per fare altro e un gruppo di persone ha avuto questa idea diciamo facciamo l'app per capire in base all'ora del giorno in base alla forma del territorio in base all'altezza degli edifici dove posso stare in un tavolino all'ombra in una città per dirvi cosa voglio dire quando andate anche oltre andateci un po' perché per prendere l'inaspettato un po' perché l'inaspettato come dire arriva non dipende non dipende da voi e chiaramente il il censimento deve deve necessariamente e questo è un punto fondamentale a proposito degli obblighi essere guidato anche dalla domanda quando vi dicevo trovate le modalità per parlare con il mondo esterno create queste occasioni create degli strumenti per ufficialmente raccogliere richieste e quindi aprite per un mese un indirizzo email dedicato fate l'hackathon è da fare per bene non soltanto cogliere l'occasione di un email casuale che arriva e vi chiede dei dati che prima non erano pubblicati tenendo conto ovviamente dell'impatto economico e sociale perché magari certe richieste possono essere di scarsissimo interesse e potete voi stessi valutarle come come tali e tenendo conto che l'interlocutore è veramente ampio in termini di competenze verticali quindi l'approccio demand driven è fondamentale i dati della folla perché folla utilizzo come come termine perché avete sicuramente sentito parlare del crowdsourcing no crowd della folla e moltissimi di noi raccolgono in maniera consapevole e inconsapevole tantissimi dati diciamo la pubblica amministrazione che c'entra con i dati raccolti dalle persone non sono dati ufficiali noi pubblica amministrazione abbiamo un ruolo abbiamo delle responsabilità noi ci occupiamo d'altro vi faccio degli esempi open data toscana quindi stiamo guardando un portale ufficiale non stiamo guardando un sito fatto da un amico mio ha tra le organizzazioni censite nel suo portale un'organizzazione che si chiama terremoto centro italia che è un progetto non profit è un progetto che è nato per aiutare e fare informazione per le persone coinvolte nel terremoto del centro italia che ad esempio raccoglieva e raccoglie tutte le segnalazioni che arrivavano quindi segnalazioni di emergenza di opportunità sociali lavorative economiche di difficoltà è un sito con un modulo l'utente compilava un modulo mandava una segnalazione la segnalazione veniva verificata è un bel progetto molto ben pensato e la qualità del progetto è un'interlocuzione tra terremoto centro italia e gli uffici regionali hanno portato la regione toscana a produrre a mettere nel proprio portale dei dati quindi nel censimento dei dati ci sono anche i dati che possono venire dalle persone dall'esterno tanto comunque nei metadati dei dati pubblicati c'è scritto che la fonte è terremoto centro italia non è che la fonte è regione toscana soltanto perché nel portale open data toscana perché i portali sono dei raccoglitori l'importante è che ci siano come dire che i dati siano firmati che si sappia chi è il titolare del dato quindi siamo nel 2022 è un altro mondo open data teniamo conto anche di dati che noi potremmo semplicemente ripubblicare ma che vengono da fuori ma con il fatto di finire in un portale ufficiale c'è un effetto a cascata bellissimo perché i portali regionali sono tutti indicizzati nel portale dati nazionale i portali del portale dati nazionali sono tutti indicizzati dal portale europeo e tutto questo in qualche modo poi finisce anche indicizzato nei grandi motori di ricerca quindi una piccola idea innovativa di un piccolo territorio fatta dalle persone con dei dati di valore di qualità diventa fattor comune grazie al fatto che una pubblica amministrazione decide di ripubblicare in questo caso dati che vengono da fuori e per darvi ma tu borruso dici queste cose perché sei uno che ci crede la pubblica amministrazione fa altro vi ho messo questo tweet del portale dati europa seguitelo seguite sia il sito di data punto europa punto eu la sezione news secondo me è una delle sezioni informative più utili globalmente molto interessante fatta con molta cura se avete l'account twitter seguite l'account twitter e recentissimamente quindi vi dico una cosa che tutto sommato sta entrando in maniera più stabile come tema tutto sommato da poco ma il 20 aprile di quest'anno hanno pubblicato un volume che si pone una domanda ma io non ci devo fare niente con i dati generati dalle persone e allora di fatti il sottotitolo è opportunità perché opportunità è una parola chiave e sfide associate all'inclusione dei dati generati dalle persone nel portale europeo ci sono dei punti critici dei consigli dei suggerimenti e si dice che è un lavoro che sta partendo ma ripeto lo sta dicendo il portale europeo dei dati e a livello normativo su questi temi l'Europa dice molto ci adattiamo a quello che dice l'Europa e ha un bel capitolo utile secondo me molto utile nel rapporto del mondo esterno sulle conclusioni e le raccomandazioni la conclusione prima è che dice che la gran parte dei portali non tengono conto dei dati generati delle persone molto spesso si trovano semplicemente FAQ cioè il rapporto con il mondo esterno ha sezioni con domande con domande e risposte con questionari sono cose che vediamo da un po' di tempo servono le FAQ servono i questionari fatte alle persone proviamo a stimolare un coinvolgimento diretto nella produzione di raccolta dati tenete conto che ci sono progetti come Wikipedia come OpenStreetMap tutti OpenData che derivano soltanto dal lavoro delle persone e che utilizziamo a volte giornalmente come fonte informativa Wikipedia credo che moltissimi di voi l'aprano probabilmente anche almeno una volta al giorno quindi chiaramente sto facendo un esempio facile se raccolvo i dati delle persone che fanno le foto ai sacchetti e le immondizie per strada devo fare un po' di verifiche non è così ben strutturato come Wikipedia ma teniamone conto organizzazione e censimento quindi abbiamo detto che devo fare un'organizzazione interna devo censire in n modalità i dati fatta questa cosa mi muovo verso il coinvolgimento delle persone perché a quel punto avere chiare le idee mi consente di parlare con con il mondo esterno e alcune cose le ho già dette ma molto interessante secondo me il punto sul supportare le conversazioni intorno ai dati perché il portale al tavolo di lavoro ad esempio il mondo della ricerca il mondo dell'università il mondo delle aziende che fanno ricerca su temi economici e sociali è fondamentale per la pubblica amministrazione che vuole andare oltre l'obbligo di pubblicità oltre le norme supportare vuol dire metterci sempre staff tempo personale modalità e poi vivere il dato come una risorsa comune vi dicevo l'esempio di quel dipendente che all'inizio non voleva pubblicare certi dati perché li sentiva suoi li amava a quei dati tanto che non li voleva far uscire quasi dalla sua dalla sua macchina e invece poi l'ha fatta diventare lui stesso per primo una risorsa comune nel piano triennale per l'informatica in uno dei primi elenchi puntati trovate come obiettivo base quello di far diventare i dati un bene comune è un elemento chiave rispetto al vivere i dati come oltre i tecnicismi e gli obblighi l'analisi giuridica è un'analisi molto ricca da specialista dedicato io non sono uno specialista dedicato su alcuni temi ho delle conoscenze di base e mi muovo ma sicuramente nelle linee guida che trovate nuove aggiornate ci sono dei gran elementi su questi aspetti ma chiaramente il tema della privacy fatto il censimento è un ovvio punto di analisi la proprietà intellettuale è un altro elemento perché tra gli archivi penso soprattutto ai beni culturali tra gli archivi ci può essere della roba per cui esistono vincoli di proprietà intellettuale quindi un'analisi che deve essere fatta fate l'analisi del caso rispetto alle licenze sia in termini di scelta che volete fare come licenza tipo sia rispetto a eventuali licenze già esistenti perché magari le banche dati che avete censito avevano già associato a una licenza dovete verificare se sono compatibili con il tema dei dati aperti compatibili con la licenza con cui vorreste rilasciarle e quindi fare delle scelte legate a questa analisi se ci sono dei limiti legati a questa alla pubblicazione ci sono delle banche dati informative che hanno come dire una scadenza penso agli albipretori in cui se non sbaglio vado un po' a memoria non ricordo con precisione ma se non sbaglio sta per 30 giorni un'informazione online verificare se queste informazioni che per norma hanno una scadenza se questa scadenza è vincolante complessivamente e quindi se anche gli open data devono eventualmente seguire limiti preesistenti alla loro pubblicazione ovviamente la segretezza chiaramente non ci mettono in formato aperto dati su cui esiste il tema della segretezza se per norma è prevista una temporalizzazione quindi io devo informare su certi dati che raccolgo con una certa periodicità quindi io devo uscire pubblicamente almeno una volta all'anno con i dati per esempio sull'interruzione volontaria di gravidanza questo ha un impatto sulle scelte che posso fare anche di pubblicazione e la trasparenza delle volte è un'opportunità perché le norme sulla trasparenza hanno anche loro degli esiti di pubblicazione e quindi un'analisi su questi temi sui eventuali conflitti quindi sia opportunità che conflitti rispetto al tema della trasparenza è un'analisi che va fatta a monte per questo nel team open data ci deve essere qualcuno che suona su queste su queste su queste cose nelle linee guida si vede piccolo ma tanto poi c'è c'è il link nelle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico questa è la versione vecchia delle diciamo delle linee guida comunque quella corrente trovate un piccolo specchietto che un po' esplode quello che può essere l'analisi come dire giuridica di base che vi fa scegliere quali sono i dataset e le risorse da pubblicare dedicheremo tutta la prossima quindi dopo domani il prossimo incontro all'analisi della qualità dei dati ma chiaramente nella scelta dei dataset e delle risorse non posso tenere conto di dati di scarsa qualità dati di scarsa qualità meglio non pubblicarli allora un dato è accurato le unità di misura sono riportate correttamente gli attributi sono coerenti rispetto all'informazione che sto raccogliendo i dati sono completi cioè riescono a descrivermi il fenomeno nel tempo e nello spazio per tutti i tipi di utenti coinvolti i dati sono attuali mi consentono di leggere un fenomeno come l'inquinamento atmosferico non di un mese fa che me l'avevi pubblicato magari per obbligo ma io l'inquinamento atmosferico lo voglio sapere ovviamente ora in linea di massima ora al più di meno di ieri ma insomma quindi accuratezza coerenza completanza e attualità sono temi chiave di qualità la bonifica è un'occasione importantissima perché fatta delle verifiche di qualità io cosa posso scegliere di fare posso riportare la bonifica a monte quindi ho parlato con quell'ufficio tecnico che si occupava di quella banca dati che vogliono mettere in open data è stata fatta un'analisi di qualità emergono delle necessità di bonifica di pulizia di ristrutturazione e possiamo prendere questa occasione e riportare indietro l'ufficio tecnico dicendogli guarda i codici comunali sono espressi correttamente guarda ci sono dei duplicati guarda ci sono delle celle vuote faccio soltanto degli esempi questo è secondo me una gran bella cosa la bonifica può essere fatta sui dati ovvero da quella banca dati interna io creo un nuovo processo che quindi non c'è la pubblicazione automatica creo un nuovo processo che li trasforma li pulisce li arricchisce e quindi lavoro sui dati per come sono usciti e li pubblico in realtà la modalità più interessante è quella basata sui processi quindi non vado a lavorare sull'esito che esce dal processo di produzione ma lavoro sui processi quindi metto sia eventuali correzioni bonifiche nella cosiddetta pipeline cioè nel flusso di lavoro che porta all'ubblicazione dei dati in modo tale che poi è un esito come dire spontaneo cosa conviene di più cosa è più economico la risposta è impossibile nel senso che potrebbe sembrare spesso che costa troppo lavorare sui processi perché quella banca dati è complessa c'è da riscrivere troppo codice ci vuole l'esperto tizio caio però se quella bonifica sui dati ogni volta la faccio dopo se la faccio una volta al giorno quanto costa se la faccio una volta all'anno vabbè me la posso accollare mi sono fatto una procedura delle note quindi la valutazione è un po' una valutazione complessa ricca va fatta con tutti i partecipanti individuare le persone che producono i dati a me molto spesso da quando ho lavorato dentro la pubblica amministrazione per me è stato essenziale trovare il come dire la figura che sapeva un po' tutto di quei dati che credevano agli obiettivi di quei dati che e allora non possiamo pubblicare open data basati sulle persone chiaramente però non possiamo non tenere conto del fatto che alcuni di noi che lavorano nella macchina pubblica amministrazione sono le persone da ascoltare le persone giuste per capire di che cosa si tratta in termini generali capire chi è responsabile della banca dati chi è il titolare della banca dati e soprattutto aggiungere elementi informativi quando ricevete una tabella da un altro ufficio nel 90% dei casi non ci capite un granché perché la tabella non parla da sola quindi se non siete anche voi un esperto di quel settore siete un altro ufficio la tabella è difficile allora questa cosa di singoli funzionari con processi verticali è una cosa che avviene non ci sono come dire cartellini rossi da dare cerchiamo di portare è difficilissimo nel sistema pubblico amministrazione la possibilità di trovare delle modalità per superare eventualmente queste verticalizzazioni in modo tale che ci sia come dire una gestione federata come conseguenza diciamo della nostra azione il censimento dei dati l'abbiamo fatto perché abbiamo fatto le nostre interviste abbiamo scoperto delle bancate interessanti abbiamo trovato tutte le figure che da anni si occupano di raccogliere dati nei vari uffici bellissimo ma ci sono dei dati da cui possiamo partire un elenco precotto dei suggerimenti ma anche un po' degli obiettivi che ha questo paese formali come dire rispetto a quali dati deve pubblicare allora esistono i cosiddetti panieri panieri perché appunto dovete immaginarli come dei contenitori con dentro le vostre le vostre tabelle esiste un accordo di partenariato un accordo vecchio tra la commissione europea e l'italia che negli obiettivi per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico deve misurare un indicatore che è stato chiamato 2 RIS sulla disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto e sono dei dataset ed esistono esiste come dire una raccolta di dati che misurano questo impegno dell'italia rispetto alla commissione europea esistono una raccolta nazionale e una raccolta regionale che derivano dagli impegni che il governo ha preso rispetto anche alle richieste che vengono dai portatori di interesse rispetto a degli impegni presi con open government partnership e rispetto a quello che è il pieno triennale quindi questo elenco di dati questo paniere deriva un po' da una politica orizzontale rispetto a impegni e opportunità presi dallo stato il paniere nazionale non ve lo leggo tutto lo trovate su dati gov.it ci sono c'è veramente un po' di tutto qua stiamo guardando il paniere nazionale le aziende partecipate l'elenco di bandi delle gare la mitologica anagrafica delle imprese i contratti pubblici il bellissimo database geotopografico cioè la possibilità di descrivere il territorio secondo degli standard i dati elettorali gli appalti innovativi come vedete i codici a teco come vedete i dati meteo trovate quelle cose in parte ovvie secondo me in parte no nel senso che sfogliando poi gli elenchi direte porca miseria ma noi stiati ce li abbiamo ma perché non li pubblichiamo le infrastrutture gli istituti penitenziari il registro delle imprese le normative gli eventi luoghi della cultura questi qua sono quelli nazionali quindi tantissimi stimoli e poi c'è un paniere regionale quindi sempre all'interno dello stesso file perché sono distinti perché ancora una volta non si vuole fare il lavoro sbagliato replicare il lavoro certi dati sono raccolti a un certo livello gerarchico e certi dati a un altro livello quindi non faccio raccogliere alle regioni ciò che è già raccolto a livello nazionale e metto nel paniere regionale ciò che ha a che fare con quello che fa la regione e quindi i dati sensori meteo la carta degli incendi che è un obbligo per esempio le fattorie didattiche l'RSA tema triste e forte sempre le comunità per i minori quindi l'impatto sociali il cadastro degli impianti termici l'elenco delle discariche ancora una volta un obbligo gli agriturismi insomma ripeto non li leggo tutti ma è comodo sfogliare questo 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 elenco i patrimoni indisponibili quello del patrimonio è sempre un elemento complicato da mettere da mettere online alcune amministrazioni lo fanno e penso anche ai beni ai beni immobili i limiti le presenze turistiche insomma tantissima bella bella roba e i comuni allora sui comuni secondo me c'è una grande su una grande opportunità allora il paniere ha il taglio nazionale e regionale i comuni sono quando vi dico che voi pubblica amministrazione sostenete il paese forse il comune per certi versi lo è ancora di più come come protagonista del mio quotidiano cioè di ciò che tocca direttamente le persone anche i comuni raccolgono tantissime informazioni che potrebbero diventare banca data open data infatti ci sono diversi comuni che hanno il portale molto pochi rispetto al numero totale ma ci sono i portali open data comunali i comuni sono diversissimi tra loro nel senso che abbiamo comuni piccoli medie e grandi ma mi sono permesso la battuta hanno tanto in comune nel senso che comunque le norme più o meno sono quelle si può trovare un comune denominatore per lavorare sulla valorizzazione del patrimonio informativo e ci sono due progetti molto molto belli legati agli open data dei comuni uno di regione Lombardia e uno di regione Piemonte quello di regione Lombardia lo trovate nel portale open data regionale come vedete è un progetto vecchio è di già quattro anni fa potete cercare poi ci sono i link potete cercare per parole chiave appunto pubblicato lo standard dei 50 dataset del paniere regionale attenzione paniere regionale perché la regione fa da contenitore ma è un paniere regionale che è dedicato al taglio comunale quindi è il paniere dei dati comunali per la regione Lombardia ed è molto interessante perché loro dicono nella dichiarazione non si tratta soltanto di un elenco di 50 titoli le farmacie i benzinai ma per ognuno ed è molto interessante in termini di qualità è stato anche proposto un tracciato record ovvero quali sono le colonne che devo raccogliere per ogni dato comunale legato a un certo tema in modo tale che non avvenga quello che avviene sempre che il comune di Milano e il comune di Monfalcone e il comune di Asti abbiano sullo stesso tema fate finta i benzinai tre tabelle con nomi di colonne diverso uno ha tre colonne uno ha 5 uno ha 10 uno magari viene aggiornato mensilmente uno ogni anno uno c'è valori decimali uno ce l'ha in percentuale e allora qui lo sforzo è stato quello chiaramente dal mio punto di vista è un inizio però la regione Lombardia ha detto cerchiamo di fare per bene una cosa piccola iniziamo a fare questo percorso e hanno fatto questa proposta prendetela come uno spunto questa non è una norma ma siccome quello che mi aspetto come domanda è ok ma quindi noi comuni cosa pubblichiamo questo è un buon punto di partenza gli altri obiettivi sono ovviamente quello di appunto favorire la completezza delle informazioni permettere il confronto tra i dati di enti diversi che è una bella scocciatura e facilitare la fruibilità dei dati e il tracciato record consente di rispondere a domande banali cioè quali sono le colonne e i campi che definiscono la mia risorsa dati qual è il titolo e qual è la loro descrizione perché anche da questo punto di vista viene suggerito un titolo omogeneo in modo tale che se io che non sono un esperto di ricerca dati voglio fare una ricerca faccio una ricerca per titolo e ottengo non solo i dati di un comune ma di n comuni ci sono colonne obbligatorie quali sono quindi definisco il mio schema dati anche da da questo punto di vista a quale poco potere controllato si fa riferimento per una colonna ovvero metto dei codici in una colonna questi codici secondo quali standard sono 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 definiti e questo è un progetto che viene pubblicato in maniera molto semplice con dei pdf con questi elementi in cui avete la il titolo la descrizione del dataset la tipologia un po' la forma dei dati che vi ho detto nel 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 primo incontro quindi una tabella potevano essere dei pixel delle immagini satellitari la frequenza minima prevista e consigliata i nomi dei campi in modo tale che il campo si chiami macro categorie rifiuti per tutti i comuni coinvolti il tipo di campo e se il campo è obbligatorio o meno il progetto di regione Lombardia ripeto non prendetelo come la bibbia però un bellissimo spunto è stato considerato talmente utile che regione Piemonte lo lo dichiara e riutilizza quel lavoro e ancora una volta quindi un'altra regione dice facciamo che i nomi dei dati siano gli stessi i nomi dei campi siano gli stessi e quindi se tutto va bene in maniera un po' informale una è quasi una una spinta che viene dal basso ma qui il basso non siamo come al solito noi cittadini e la pubblica amministrazione stessa dice proviamo noi a far diventare standard elementi informativi che vengono dal taglio comunale che è un territorio importantissimo e la regione Piemonte nel suo portale ha specificato come aderire come un comune può aderire quali sono le regole del gioco quali sono questi tracciati il record quindi è interessantissimo a me piacerebbe come società civile provare a dare un contributo ci sto ragionando ma non vi annoio con questa cosa questa è una tabella che deriva da regione Piemonte quindi viene definito il tema il tema dei dataset non è non lo scelgo io esiste un elenco che deriva dallo standard DICAT che definisce circa una quindicina di categorie tematiche di alto livello quindi ambiente commercio cultura queste qua sono tematiche legate alla piattaforma della regione Piemonte i nomi dei dataset è il il nome è il il dataset l'identificativo del dataset di regione Piemonte ancora una volta la struttura è simile vi dice quali sono i tipi dei dati la forma che possono avere quali sono qual è il tracciato record lo schema di quei dati quindi ovviamente una citazione del lavoro in regione Lombardia e regione Piemonte riparte da lì e aggiunge alcuni elementi i metadati esistono la descrizione dei dati esiste ed è che fa parte del censimento necessario quando raccolgo i dati raccogliere la descrizione l'informazione su questi dati esistono le linee guida nazionali che sono formalmente obbligatorie per descrivere i cataloghi dei dati si chiamano appunto linee guida per i cataloghi dei dati le trovate pubblicate su Docs Italia Docs Italia se non lo conoscete è lo spazio della documentazione ufficiale italiana soprattutto diciamo quella tecnologica reso in modalità molto leggibile sono dei siti web molto leggibili da tutti i terminali ben strutturati con la possibilità di ricerca queste linee guida definiscono quali sono i temi le macro categorie tematiche dei dataset a cui fare riferimento quali sono i vocabolari controllati a utilizzare quindi se esistono ad esempio dei codici secondo un elenco standard strutturato e i metadati descrivono gli elementi principali del profilo appunto di metadattazione del profilo descrittivo dei dati il profilo di metadattazione italiano si chiama DCAT-AP che è lo standard diciamo più internazionale underscore IT per mappare il nostro standard di descrizione dei cataloghi open data questo è Docs Italia trovate ovviamente il CAD pieno triennale delle linee qui dei design la strategia del cloud è un gran bel sito fatto molto bene un catalogo viene descritto un catalogo dal suo titolo quindi il nome del catalogo portale open data della regione Lombardia la descrizione del catalogo l'editore del catalogo la data di ultima modifica del catalogo è ovviamente i dataset cioè questi 5 elementi sono gli elementi chiavi che fanno un catalogo un catalogo descritto con gli elementi minimi di base tra cui ovviamente l'elenco dei dataset che ci sono internamente ogni dataset ha un identificativo ha un titolo ha una descrizione deve essere possibile risalire quando è stato modificato perché se io scarico i dati sull'amianto devo sapere qual è la modifica del dataset devo conoscere il tema quindi si ha a che fare col commercio con l'ambiente devo sapere chi è il titolare di questi dati e io pubblico amministrazione in un momento lo devo dichiarare devo dichiarare qual è la frequenza di aggiornamento prevista e qual è la distribuzione ovvero dove sono i file dove sono le risorse quindi descrivo i dataset e dico dove sono i dati veri e propri i temi dei dati sono questi 13 qui sono descritti in italiano hanno una codifica ancora una volta sono dei codici standard questa è l'etichetta in lingua italiana per descrivere i temi e come vedete trovate un po' i temi base della nostra vita quotidiana quindi ogni dataset va associato a uno di questi macro temi esistono anche dei sottotemi ma l'obbligatorio è il tema di alto livello il file da scaricare la risorsa la distribuzione il servizio va almeno descritto in termini di formato quindi è un csv è un json un xml un rdf va associato a un url per poter accedere a quell'informazione e va associata a una licenza per poter accedere a quei dati tutto questo è obbligatorio se il catalogo non ha questi campi obbligatori a livello centrale daticov.it se indicizza il vostro catalogo vi riporterà come nota la non compatibilità i metadati sui contenuti sono invece qualcosa che avviene purtroppo di rado ovvero voi scaricate quindi sapete un po' tutto sull'alto livello sul dataset quindi sapete il titolo la descrizione sapete il responsabile dei dati poi scaricate la tabella e trovate nomi colonna che ne so id underscore ab trovate la colonna codice aziendale ma che sono queste due colonne che tipo di campi possono contenere quasi mai trovate nei portali open data del mondo purtroppo una descrizione dei contenuti ma quindi soltanto a un livello un po' più in alto questo è un problema ed è molto consigliato fare il cosiddetto dizionario dei dati rispetto al un po' quello che avete visto con regione Lombardia e Piemonte che descrivevano ogni campo cosa conteneva in termini descrittivi e in termini di tipo di campo perché questo consente all'utente di avere informazioni minime e sufficienti per elaborare e comprendere quei dati senza questo delle volte è complicato soprattutto con i dati in formati più poveri come il CSV perché i formati quelli più ricchi come quello diciamo del cosiddetto mondo di 5 stelle in qualche modo hanno spesso una autodescrizione che consente di superare questi questi elementi e il dizione dei dati quindi diciamo un failetto che descrive campo per campo può essere tutto sommato nell'ipotesi più semplice meno automatica un po' più per tutti un altro failetto che descrive lo schema dati colonna per colonna nel caso di dati tabellari le caratteristiche tipiche per descrivere dei dati sono appunto la proprietà delle tabelle legate a colonne righe e celle che compongono i dati e un dizionario dei dati corrisponde anche lui così come i dati sono dietro un URL anche il dizionario dei dati deve essere dietro un URL correlato e questo file di testo che è scritto a mano è un esempio se voi pubblicate accanto al file dei dati un fileetto txt in cui c'è scritto leggibile in questo caso dall'uomo dalle persone descrizione tipo di campo e titolo di ogni campo avete fatto un grandissimo lavoro non è molto automatico ma a me giornalista che devo fare l'analisi sul demanio marino in Italia mi scarico questa roba non devo fare un'enorme analisi con centinaia di dati ma soltanto su questo mi leggo queste quattro righe e riesco subito a fare delle elaborazioni sensate quello che vedete è un esempio noto ed è un altro esempio di descrizione scritta a mano sono i dati covid è il repository della protezione civile dedicata ai dati covid che è stato in qualche modo un elemento rivoluzionario nel mondo degli open data in questi due anni che ha fatto una cosa semplicissima se voi entrate nella home page del repository in basso trovate una roba con scritto tipo descrizione dei dati se non sbaglio vi riporta in un'altra pagina dove c'è questa tabella e come vedete c'è un po' quello che ho descritto prima per ogni campo la descrizione questo è un po' più tecnico rispetto a quello che abbiamo visto sia in regione Lombardia sia in regione Piemonte perché aggiunge degli elementi che sono un po' da chi fa questo mestiere quindi vi dice che il formato deve essere ISO 8601 per le date ne parleremo dopo domani ovvero anno mese giorno ora minuti e secondi questo perché è uno standard facilmente leggibile sia alle persone ma sia dalle macchine quindi io ti dico guarda la tabella dei dati regionali covid ha queste colonne si chiamano così te la descrivo quindi te la faccio leggere cioè se non sbaglio anche in inglese fra l'altro e ti do pure un formato per fare le tue elaborazioni in questa colonna trovi numeri in queste colonna trovi testo in queste colonna trovi dati geografici secondo un certo sistema di coordinate ed è e qui c'è uno sforzo successivo in più non solo ti dico che tipo di campo c'è ma ti faccio un esempio guarda dentro questa cella ad esempio puoi trovare dei valori scritti in questo modo oppure dei valori scritti in quest'altro modo io non so se si vede il mio mouse probabilmente non si vede sbaglio ma comunque diciamo la colonna esempio che trovate sulla 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 destra loro sono diventati un esempio facendo una cosa tutto sommato vecchia nel senso che non si sono inventati niente di nuovo ma sono diventati rivoluzionari perché in Italia quasi niente è descritto a livello di risorsa a livello di tabella e chiunque pubblichi open data adesso un po' deve pensare a quello che è stato fatto perché la gente ci ha preso gusto e sono data set di cui abbiamo parlato troppo anche a sproposito ma è un po' quello che la gente si aspetta loro oltre ad aver descritto in maniera leggibile dalle persone le tabelle hanno anche descritto in maniera come dire standard e machine readable quindi con dei file XML in modo tale che si potesse leggere anche automaticamente da da una macchina e nella slide in cui vi dicevo scegliete una modalità per dilogare con il mondo esterno loro hanno fatto anche un altro sforzo secondo me clamorosa clamoroso che è quello di aver aperto le cosiddette issue cioè le segnalazioni e questo ufficio si è accollato e non è un ufficio grandissimo voi mi direte la protezione civile no l'ufficio non è un ufficio le persone che sono occupate di quello che vi sto dicendo forse sono un paio hanno raccolto decine e decine di segnalazioni abbiamo superato se non sbaglio le mille in due anni alcune segnalazioni senza senso alcune anche poco educate la gran parte erano con senso educate normalmente e hanno prodotto risultati perché alle volte c'erano degli errori alle volte sono state prodotte nuove informazioni che prima non c'erano grazie alle segnalazioni all'esterno io in particolare per esempio ho fatto in modo che i codici regionali fossero in qualche modo disabilitati perché nella sanità il taglio non è regionale nel senso che le province autonome hanno il loro codice e quindi i codici stati regionali non vanno bene perché mescoliamo nella sanità regioni e province ma esistono i cosiddetti codici NUTS che sono i codici diciamo standard internazionali per definire questi contesti amministrativi e sono stati introdotti grazie a una richiesta che è venuta dall'esterno ho praticamente quasi finito questa è un'altra modalità a cui accenderò dopo domani sembra un po' l'elenco scritto a mano prima in inglese come vedete c'è la definizione dei campi per ogni campo c'è il nome il tipo in realtà questa che sembra un elenco puntato scritto in inglese è un formato standard può essere utilizzato per validare dei campi cosa voglio dire nel campo delle date il valore massimo previsto è 15 maggio 2022 non solo io così descrivo i dati e avviso l'utente ma posso abilitare una procedura interna che fa questa verifica di coerenza con la descrizione dei metadati quindi i metadati hanno come ruolo fondamentale quello di descrivere verso le persone verso le macchine i dati ma anche quello di fare delle verifiche di qualità di validazione perché il dato deve essere coerente con la sua descrizione quindi è un tecnicismo che produce tantissima ricchezza e sui titoli di coda Andrea ti faccio un grandissimo grazie do a te e a tutti i partecipanti l'appuntamento a strettissimo giro questa volta dopo domani giovedì 23 giugno sempre alle ore 9.30 ci ha già anticipato l'argomento della prossima della prossima occasione di incontro quindi analisi della qualità qualità dei dati e la loro valorizzazione l'appuntamento quindi è per tutti per dopo domani grazie di nuovo Andrea e grazie a tutti quanti una buona giornata grazie a voi ciao grazie a tutti grazie a tutti